Gentili telespettatori, buona giornata. Proprio due giorni fa abbiamo visto Travaglio, l'innamorato di Conte, l'innamorato dei Cinque Stelle, rompere con i grillini dicendo non contano più nulla, non valgono più nulla. Adesso hanno sbagliato tutto. Adesso anche Andrea Scanzi, altro uomo sinistro, giornalista sinistro, una persona che cerca di essere al centro dell'attenzione, probabilmente ambisce a entrare in politica. Non vi ricordate si era fatto fotografare più di una volta con Di Maio, andava a mangiare con lui, con altri politici. Quindi credo sia un personaggio che cerca di entrare in politica. Probabilmente ha capito che non c'è riuscito, non ci riesce o non ci riuscirà mai e quindi adesso rompe con i Cinque Stelle contro i tanto amati grillini. E secondo il giornalista i Cinque Stelle avevano il coltello dalla parte del manico ma sono delle capre, hanno sbagliato tutto. Quindi imita e scimmiotta, ripete le parole di Sgarbi di qualche giorno fa. Sgarbi diceva sono delle capre, cosa c'entra dal super ministero perché non l'hanno detto prima. Lui riprende le definizioni di Sgarbi e dà delle capre ai grillini. Parole non proprio carine diciamo, quelle che lui dice da Lilli Lilli Gruber sulla 7 nel programma 8 e mezzo. Anche con la Gruber Travagli o proprio l'altro giorno aveva detto più o meno le stesse cose dei grillini. I Cinque Stelle dice sono delle capre, hanno sbagliato tutto, dice il giornalista del Fatto Quotidiano. Quindi alla fine praticamente prende le parti del suo capo Travaglio. Insomma secondo Scanzi i grillini non sarebbero riusciti a trarre beneficio dal momento a loro favorevole, anzi sarebbero riusciti a sbagliare tutte le mosse subito dopo la caduta del Conte II. Se prima potevano vantare una posizione di prestigio adesso non hanno più neanche quella. Avevano il coltello dalla parte del manico, se non ci fossero stati dentro loro non sarebbe partito Draghi. Hanno fatto tutto questo gran teatro con il Ministero della Transizione Ecologica e alla fine non lo hanno nemmeno tenuto, ha sottolineato senza mezzi termini Scanzi, precisando che i Cinque Stelle hanno ottenuto quattro ministeri di cui due senza portafoglio. Certo i Cinque Stelle non contano più nulla, non sono né ago della bilancia né niente. Che loro siano al governo o no, ormai sono stati ampiamente sostituiti dalla Lega e da Forza Italia. Quindi quelli che dovevano essere il punto centrale del governo nato nel 2018, perché loro sono quelli che hanno avuto più seggi, hanno preso oltre il 33% alle elezioni, non sono mai stati realmente a capo di nessun governo. Si sono stati fatti, si sono fatti sottomettere da Salvini di Maio prima e poi dal PD del Conte II, perché loro con la clausa del secondo mandato non hanno mai potuto esprimere appieno le loro opinioni o prendere posizione perché c'era sempre lo spettro e se cade il governo perdiamo lo stipendio, allora diciamo sempre di sì, facciamo scegliere lui. E così si sono presi dalle capre. Dopo le capre che gli aveva dato Sgarbi, anche da Scanzi arriva l'epiteto capre. Bene, e quando si riferisce alla presenza dei ministri azzurri, questo giornalista sinistro dice se qualcun altro continua a dire che a livello politico questo è il governo dei migliori, imbraccio il Kalashnikov a livello metaforico. Perché sì, il governo dei migliori. Insomma, soprattutto io credo che il migliore sia il ministro dell'istruzione che in due frasi parlava proprio con degli errori grammaticali enormi, un ex rettore di un'università che parla in quel modo, guardatevi il video precedente a questo. Quindi sì, il governo dei migliori, veramente i migliori di che cosa? I migliori di quelli che giocano a briscola, 3-7, a scala 40, saranno i migliori a giocare a scala 40. L'idea che i 5 stelle governino con Renato Brunetta, Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini non sembra riuscire a digerirla. Altro schiaffo ai 5 stelle è arrivato dall'incarico al ministro dello sviluppo economico, sempre stato dei grillini, dove invece al numero 2 della Lega viene assegnato appunto a Giancarlo Giorgetti. Certo che lasciare lo sviluppo economico a un grillino è come cancellare quel ministero, far conto che non esiste più. Quindi perlomeno adesso ci va Giancarlo Giorgetti che perlomeno è laureato in economia se non sbaglio. Quindi comunque almeno abbiamo delle persone che sanno di quello che si sta parlando, non dei ministri per caso. Basta ministri per caso, basta incompetenza, superficialità. I danni al Paese sono enormi dati dalla superficialità, dalla mancanza di curriculum. Non ci si improvvisa politici senza curriculum, politici per caso per averci cevuto 15 like su Facebook o 10 voti su WhatsApp. E così Scansi non risparmia neanche il PD, il Partito Democratico, che a suo dire ha pure l'aggravante di aver preso tre ministri come Forza Italia e di non aver indicato delle donne. Del resto, come dicevamo anche Travaglio nei giorni scorsi, diceva che i 5 Stelle prima di calarsi le brache avrebbero dovuto chiedere qualche garanzia in più, sottolineando che da adesso in poi non conteranno più nulla. E fa una sorta di complimento a Grillo, che forse vediamo come lo interpretate voi. Dice Grillo è tutt'altro che scemo. Si è trattato di una circonvenzione di capace. È stato intortato da quel volpone di Draghi, che lo ha intortato con la supercazzola del superministero della transizione ecologica. Allora, il ministero della transizione ecologica non l'ha proposto Draghi, l'ha proposto Grillo, perché serviva questo proprio per far leva sulla votazione sul rosso. Dice guarda, guarda, ci ha approvato il ministero, è un grillino come noi. Pensavo fosse un banchiere di Dio, ma è un grillino come noi. Quindi mi sa che è Grillo che ha preso per scemi gli elettori suoi. Dice adesso li faccio su, gli racconto la storiella di Babbo Natale, gli dico Draghi è uno di noi, così lo votano. Che tristezza, che tristezza. Una sorta di capo politico che ha una considerazione così bassa del proprio elettorato. Gli fa una domanda farlocca sulla piattaforma Rosso, dicendogli che Draghi è uno di loro e questi ci cascano pure, al 59% votano per Draghi. Ecco, diciamo che ognuno conosce i suoi polli, vero? Si dice così, ognuno conosce i suoi polli. Quindi Grillo conosce il suo elettorato e ha capito che era molto semplice ingannarlo, facendogli presente un quesito ingannevole con un ministero che poi non è neanche arrivato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, l'iscrizione è gratuita, siamo anche su Facebook e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.